Una buona giornata a tutti i cittadini torresi, è stata approvata proprio stamattina la delibera in Consiglio Comunale la 303, in giunta il 21 luglio, stamattina approvata dal Consiglio Comunale, riguarda la riduzione della Tari, della tassa sui rifiuti, anche l'anno scorso è stata fatta questa delibera e in particolar modo riguarda le attività non domestiche, quindi le attività commerciali che verranno praticamente senza nessuna domanda avranno la riduzione come l'anno scorso. Per quanto riguarda le attività domestiche, quindi si parte da un reddito ESEE da 0 a 6 mila euro con una riduzione del 50%, poi da 6 mila a 10 mila con una riduzione del 30% e da 10 mila a 15 mila della riduzione del 20%. Per fare la richiesta di riduzione si deve praticamente allo sportello territoriale di Publi Servizi a Viale Europa, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Poi agli ufficio tributi del Comune Torre del Greco, via Calastro ai Mulini, che è aperto il martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30. Servono la certificazione ESEE e il documento di riconoscimento. Allora, ai cittadini torresi che hanno questa possibilità, io farò altri spot perché l'anno scorso sono state presentate un 40% di domande, è una riduzione di tassa sui rifiuti. La domanda si potrà inoltrare fino al 20 settembre del 2022, quindi teniamo un tempo già da oggi, il tutto anche sul sito del Comune, fino al 20 settembre del 2022 per avere una riduzione sulla tassa dei rifiuti. Questo è il modulo che potete scaricare oppure agli uffici, questo è il modulo, è molto semplice e abbiamo tutto il tempo a disposizione per scrivere il modulo e consegnarlo sia all'ufficio della Pubbi Servizi, sia al Comune Torre del Greco e poi c'è anche un'email. Quindi abbiamo tutto il tempo, fate la domanda, da reddito ESEE 0 fino a 15.000 euro abbiamo questa possibilità di riduzione.